Salve tutti bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo ai file mancanti in questo caso quando stai installando il tuo sistema operativo Windows ti esce questo tipo di errore, file richiesti, file mancanti, quindi non può procedere all'installazione del sistema operativo quindi in questo caso, in questo tutorial ti spiego come risolvere il problema quindi, mentre stiamo facendo così l'installazione ovviamente vai a premere ok, ritorna nella pagina dove c'è scritto installa adesso e premi shift più f10 per aprire il prompt dei comandi scrivi disk part, fai invio, su disk part scrivi list disk trovi così la lista di tutti i dischi installati nel tuo pc scegli così il tuo disco, quindi select disk 0 fai invio su disk part scrivi clan, pulisci tutto il tuo disco su disk part scrivi convert mbr invio ha convertito così il disco e l'ha formattato e premi exit invio esci ed eccolo qua installiamo così il nostro sistema operativo andiamo avanti scegliamo così la nostra edizione ed eccolo qua accettiamo scegliamo così il nostro disco e abbiamo fatto se ti è stato utilissimo questo tutorial su come risolvere l'errore all'installazione di windows 10, windows 11 o qualsiasi sistema operativo che stai installando sul tuo pc iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta sotto al video ciao 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 ciao